Bella a tutti da Porcomods, eccoci qua in questa nuova gara Questa gara è stata creata da DG Creator Vi lascio il suo canale in descrizione Ed è mica rampa con il treno, raga Vediamo un po', però dovrebbe essere un parkourito Perché lui crea parkouriti, infatti Non è una gara sali e scendi Ma comunque si vedeva già Adesso c'è anche l'abbia sali e scendi Cos'è, cos'è? Oh, 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 raga, non ci ho capito niente Stavo facendo avanti e indietro Ci arrivi, ci arrivi, ci arrivi Mamma mia, che saltinos Oddio, oddio, un bel veloci, belli rapidi In questa bella bestia, mamma mia, quanto core Quanto core sta Sì, ciao, raga, sta bestia Mi sono cascato, raga, gioia, credi Allora, questa è l'emozione della bestiorina Comunque non ho mai capito perché Io ho sempre questo giubbino arancione E gli altri Hanno quei giubbini colorati Perché non dipende della creosa o della stessa creosa Ma che ne so È un mistero comunque Ok, soldatino primero Soldato primero Iuto, 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 iuto Mamma mia, che luce che c'è qua, eh Allucinante Ah, no, è cascata, è cascata da soldato Mamma mia, l'ultimo abbiamo saltato Forse non ce la facciamo Beh, sì, invece Finito? No, non è finito, raga Quanti ce ne stanno? No No, raga Sì Sì, 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 sì Ci siamo Ok Ce la facciamo? Sì, raga, perfetto, perfetto E siamo per i belli primeri Qui abbiamo la nostra Other Corrote F1 Veloce, veloce, Other Più veloce che puoi Freniamo pure Se ne ho leggermente più veloci Ok Qua ci conviene frenare Ho messo un freno No, non vedo freni, raga Noi però seguiamo Tranquillamente, raga Super, super Tranquilli Olle Andiamo, andiamo Veli veloci Veli rapidi Oh mio Dio, mio Dio Ok, ci siamo Allora, facciamo attenzione Perfetto E raga, stavo a pensare Mentre facevo Queste mica rampe Cioè io commento i video Raga, do dei calcolare E pensa ad altre cose Ma si può essere spadati Mentre si fa un video Per YouTube Dove si commenta una gara Allora Adesso vi racconto Quello che stavo a pensare Volevo creare Un altro canale ancora Già Aiuto, aiuto, aiuto Già c'ho PorkMods C'ho BigPork C'ho OnePork Ma questo canale Lo volevo chiamare In modo diverso Tipo PorkMods Creator Dove ogni tanto Facevo una mini live Ma non proprio piccole, raga Dove creavo qualcosina E ci mettevo pure Qualche altro video A caso, così Però soprattutto per fare Delle mini live Dove creavo qualche gheretta Perché poco fa stavo creando E Secondo me potrebbe essere carino Ora vedo, non lo so Non ho idea Perché ogni tanto creo E creare qualcosina live Non è male Almeno qualcuno mi tiene Compagnia durante il creatore Perché tanto SharePlay Non c'è Praticamente SharePlay Si usa per condividere La schermata Con altri giocatori Nel party Ma non funziona più, raga Non funziona più lo SharePlay Quindi se devo far vedere qualcosa Cioè come sto creando la gara Tipo a un amico Devo fare La live Oh mio dio, raga Comunque c'è il trenino Non sto parlando Il trenino c'era E la miniatura Nemmeno l'ho fatta, raga Quanto sono sbadato Quindi per far vedere Quello che creo Devo fare ogni volta Una live In un canale sconosciuto A sto punto La faccio per tutti voi Cioè per chi è interessato Non è una cosa Necessaria Seguire quel canale Ventre creo E qui Che è? Wow 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 Comunque ora ci penso Appena ci penso bene Vi farò sapere Porkmoz Creator è carino Come il nome del canale Giusto per creare Qualche garetta Perché ho iniziato Un level asian Sono un po' lentino A creare Però cercherò Di migliorare Ad essere più veloce Mentre creo Questo è il dirigibile Xero gas Raga quanta stradina C'è che questo Va a due all'ora Chi c'è? Soldato di treno Oh eccolo Eccolo la soldato Il dirigibile Noi stavamo a parlare Abbiamo sbagliato 75 volte Oh quanto corre Ma veramente Corre così tanto Io pensavo Andavo a due all'ora Invece avete visto Che busta che ha preso E adesso dobbiamo frenare Possiamo accelerare Sì 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 Non so dove sono Eh raga Se andavamo super veloci Facciamo un mega salto Andavamo direttamente Al checkpoint Però non è stato possibile Allora aspettate un attimo Ok Aiuto Ci siamo Alla Madre mia Madre mia Chi è che mi ha scritto Devo leggere il messaggio Qui raga No no Pericoloso Chi è che ho scritto Ah no no Questo è per quittata la gara Questo è di Questo è il messaggio Asui Aspettate raga È complicato Sei come faccia Legge Apriamo il messaggio Asui come si fa Mamma mia raga Ho letto No Sbagliato Sbagliato C'ho io Credita raga Stavo leggendo il messaggio Non è valido Allora Per sbaglio Stavo pure Quittando dalla gara Soldati è cascato? Sì sì Allora Concentrati State tranquilli Aiuto Di qua Volver Di qua Poi bisogna andare giù Ok Pericolosa la situation Veramente pericolosa Che è che è che è che Oh mio dio raga Allora Ah ci abbiamo pure un turbo No no Oh mio dio Oh mio dio Raga Ok Non riuscivo a mettere La prima persona Siamo vivi? Oh mio dio E non l'avevo vista Questa corpita raga Non l'avevo vista Per niente Comunque Proseguiamo Tranquillamente noi Ok Allora Andiamo Mamma mia Siamo vivi? Perfetto così Proseguiamo Tranquillamente Dove? Dove raga? Non lo so Ai 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 Dove siamo? Ok Ah raga ma io c'avevo il turbo Non c'ho io credo Potevo attivarlo Comunque quanta strada Bisogna fare Ah non siamo ancora Primeri State tranquilli Sì Ci serve un turbo Qui eh Assolutamente Qualcuno arriva Ma io Quanto sono sbadato Vorrei sapere Quanto Allora Soldatina Mi frega Primeri Raga ve lo dico Non bisogna fare Questi errori Nelle carerite Nelle corridine È vietato Ok Ok questa volta Attiviamo il turbo Soldato Ce l'ha fatta Credo di sì 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 Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta E c'ha un elicottero Ho visto dalla minimap Un elicottero Eccolo lì Andiamo 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 Che stavolta Attiviamo il turbo State tranquilli Sì sì Turbo 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 Su Turbo Ce l'ho Facciamo Elicottero qui Veloce Ole ole Ci siamo Ci siamo Siamo secondi Dobbiamo recuperare Assolutamente Soldato che sta lì Non vi preoccupate Che adesso Orsuino Si impegna Fa 2000 all'ora Comunque Dove sta Il check Quanto strada C'è con questo elicottero Non lo so Ok Siamo quasi arrivati Era lunghetta La strada Con l'elicotterino Soldato appena saltato Ma cosa Com'è possibile Che sto andando sotto Non ci ho capito niente Allora Dove 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 Di qua Vola Vola Volo sui Ho sbagliato Ho sbagliato Ce l'ha già fatta lui Aspettate Cosa c'è Però già Che c'è questa paleolica E' trollosa Questa paleolica Oh no 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 Primeria Sbagliato Ok Allora Sì sì Ci possiamo fermare Possiamo fare tipo così E poi saltare su Olle raga Ci siamo E facciamo la stessa cosa qui Ok Allora Ci mettiamo qui Saltiamo Credo che vada bene Ad occhio Paleolica Mamma mia Ci siamo Ci siamo Rigiremoci Costile Ok Qua bisogna saltare No Non è carico E il salto Adesso sì Allora Andiamo Paleolica Eh raga Trolla quella paleolica Non potevo andare su Perché Se no mi prendeva Quella paleolica Allora Andiamo Andiamo Qua dobbiamo saltare Sì Ricarica Ricarica Non so come fare qui Perché Come vedete Possiamo saltare No Non credo che si ricarichi in tempo Però quella paleolica Non è troppo Lo usate più Sì No Un'altra Lascia il gas Dove sono? No raga Niente Niente Eh raga Due paleoliche Quindi Sarà complicato Dai 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 Per favore Scrumge E per favore Paleoliche Dai Come posso fare Riga Mi sto prendendo sempre Queste paleoliche Riga Do soldato sì Vediamo se lui ce la fa La prima Era Il cascato sì Andiamo Sì Sì Stavo attivando il turbo Ma non c'era Riga Ok E qui Cosa abbiamo Cos'è Mamma mia Veramente Sì Guardate che glide Estremo Madre mia Che spettacolo Di glide Meraviglioso Questo glide Un po' più alti Un po' più alti Qua riga Ok Ok riga Forse ci siamo Bella C'è il check Mamma mia Che glide Del su Ok ok Cos'è Pulmino Allora Belli concentrati Bella quella parte Col glide Meraviglioso Dai Veloce Veloce Questo camioncino Strano Ma questo è il pulmino Di Vinewood Per fare Il giro turistico Ok Ci ho fatto un parkourito Una volta Mamma mia Quanto trollava Però un intero parkourito Ah ok Già finito E qui cos'è Cos'era quella roba Riga Facciamo un glide Per forza Dai 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 Ok Ah questa non ce l'ho Modificata Questa macchina Infatti sta facendo Cromata No Non l'ho mai comprata Ragazzi L'ho comprata Per fare un video Perché Mi ricordo Che in qualche DL ce l'avevo comprata Questa macchina Allora Andiamo Qua c'è un altro Cambio Sì Ci siamo Allora Vediamo cosa c'è No Sì Sì Questa va a 2000 No Ragazzi Non ce l'ho Io Cara idea Dai Perché le paleoliche Ammesso Sono ancora Primero Sì Sì Ragazzi Ma avete visto Quanto corre Quella paleolica Mio Dio Allora Poi meno male Che c'è un turbo Se non ce la facevamo No Sì Dai 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 Per favore Gittia Per favore Ragazzi Ma poi Come Come si fa Va a fortuna Con le paleoliche Perché Se no Come si spiega Questa cosa Dai Per favore Per favore Il cambio Ci viene D'addio Perché l'ha messo Pure benissimo Quindi i cambi Li mettono così bene Sono facili Ok La macchina è un po' Scivolosa Comunque Però queste paleoliche Per favore Ma io dico Oh Ma io non mi lamento Io non mi lamento E qui E la miseria Che equilibrio Che c'è Allucinante Allora Aspettate Belli Concentrati Ok Soli 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 Sui Porkmon Sweep Che abbiamo Sì Veloci Ok Frena 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 Ehi Ehi Facciamo così Per sicurezza Ok Qua non ci conviene Andare veloci Perché È inclinato Quindi Non va dritta La moto Allora Ok Anche qui Inclinato Sì Dobbiamo andare Moderati Anzi Lasciamo Solamente il gas E basta Sta andando da solo La moto Che l'avevo visto Questo gradino C'è questa salita Così ripida Sali 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 E ci siamo E qui c'è la nostra Primera Mamma mia E come si fa qui Non c'ho Ah in parte non c'ho Manco Rockstar Editor Ecco Io ci avevo fatto Se vi ricordate Un basket Tipo Con Che macchina Era quella che va sottacqua Stronberg Ho vinto Comunque sia Se vi è piaciuto Il parkour Di G-Creator Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale Passate su tutti i canali Che trovate in descrizione E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello Ciao a tutti i canali Ciao a tutti i canali